Extra estate è offerta da Amici di Teleromagna, buongiorno, ben ritrovati. Un nuovo weekend alle porte, allora ci siamo ovviamente come ogni settimana, anzi ogni fine settimana, pronti a sfogliare insieme Extra estate il magazine del Corriere Romagna che appunto trovate in abbinamento al quotidiano e che insomma vi offre un po' un percorso di tutto quello che il territorio romagnolo vi può offrire. Come sempre insieme a Laura Padovani, ciao e bentrovata. Ciao Luca Alberto, buongiorno a te, ben ritrovati anche a tutti i nostri telespettatori, lo ricordiamo sempre, Extra che negli anni si evolve e quindi è passato dalla formula cartacea a quella di rotocalco televisivo già da due anni e poi quest'anno anche sotto forma di web, quindi assolutamente consultabile. Noi abbiamo anche la fortuna però caro Luca Alberto di avere degli ospiti. Assolutamente sì, con i quali sfogliare appunto Extra e soprattutto entrare nel vivo di alcune delle proposte più interessanti di ogni fine settimana. Siamo fatto al terz'ultimo numero, poi si arriva e si entrerà in agosto, vi ricordiamo insomma, vi accompagneremo fino ai giorni che precederanno il ferragosto, il secondo capodanno della nostra estate. Settimana scorsa siamo rimasti sulla sabbia, direi prevalentemente, no? Con il lungomare di Rimini e non solo, ora entriamo un po' nelle nostre colline perché spesso parliamo di mare ma insomma non abbiamo solo quello per fortuna in Romagna. E allora andiamo questa settimana, per questa puntata insomma, a parlare di Borgo Sonoro assieme a Valeria Mordenti che è il direttore artistico appunto, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Potremmo conoscere un pochino questa serie di iniziative veramente molto molto interessanti anche perché ce n'è davvero di tutti e per tutti. E credo un evento soprattutto in crescita perché è 19 anni e quindi ormai più che maggiorenne Valeria e quindi immagino si sarà evoluto anche negli anni. Magari partiamo dal fatto che forse il nostro telespettatore al momento non ha mai sentito parlare di Borgo Sonoro, non sa di che cosa si tratta e noi brevemente cerchiamo di fargli capire appunto che tipo di eventi sono partiti ieri. Musica e territorio sono le due parole che ci siamo annotati come parole chiave, giusto? Assolutamente, musica e territorio sono fondamentali perché è un progetto costruito proprio sul territorio ed è quasi un progetto di promozione del territorio oltre che un progetto appunto culturale e musicale. E 19 anni con una grandissima evoluzione perché i primi anni, i primi cinque anni era un evento collocato all'interno di un piccolissimo borgo che tra l'altro è anche il paese dove ho la fortuna di abitare per cui è anche un motivo di orgoglio insomma che è la piazza Byron di Monteleone. All'interno di questo borgo c'era un piccolo circolo gestito da un bravissimo musicista che per passare l'estate per inventarsi anche un modo per attrarre amici e persone ha iniziato a fare dei piccoli concertini, organizzare dei piccoli concertini negli angoli della piazza e da situazioni in cui c'erano 15, 10, 20 persone, 30 persone si è arrivati poi invece nel 2005 ad avere un buon riscontro. Il progetto è stato un po' patrocinato e anche preso, aiutato dal comune capofila che è quello di Roncofreddo ed è stata fatta la proposta di allargarsi e di condividere questo progetto con i comuni circostanti. E dal 2005 andiamo avanti, quindi sono 15 anni di progetti in rete ma sono in realtà 19 anni di Borgo Sonoro e siamo arrivati a coinvolgere i nostri comuni storici che sono quelli diciamo della Valle del Rubicone, del territorio dell'Etario del Rubicone più Mercato Saraceno, quindi siamo arrivati a 7 comuni per un totale di appunto 13 date in 12 luoghi diversi per un intero mese di programmazione. Esatto, anche perché vedo si arriva fino al 24 agosto, quindi belli lunghi e con tantissime opportunità, tu che hai ereditato il testimone diciamo, in questo lungo percorso, l'anno prossimo farete cifra tonda, il ventennale e sarà ovviamente motivo ancora più di orgoglio, però intanto c'è l'edizione numero 19, in un percorso dicevi da quando lo hai ereditato tu, ha cambiato soprattutto in che cosa? Ma abbiamo cercato di radicare molto di più il progetto all'interno del territorio una spiegazione di base è importante, noi siamo ogni sera in un luogo diverso a parte quando torniamo a Monteleone per la seconda volta per agosto e sono tutti contesti diversissimi, passiamo da una piccola piazza ad un grande prato il rivallo che si appaccia sul mare, a un piccolo borgo, a una piazzettina all'interno di un castello quindi sono tutti contenitori molto differenti fra di loro, che hanno bisogno di contenuti diversi all'interno e quindi abbiamo cercato in questi anni di cercare sempre di trovare il contenuto migliore da mettere all'interno del contesto ambientale, anche storico, ma anche di spettatori perché comunque c'è una grossa parte di spettatori che girano quasi sempre, quasi per tutte le date lo zoccolo duro, poi ci sono quelli invece che sono più legati magari al luogo in cui si va a vedere uno spettacolo e quelli che sono più legati invece alla motivazione principale, quella della proposta musicale e quindi è un'alchimia che va valorizzata e bisogna cercare soprattutto appunto di riuscire ad avere questa omogeneità all'interno del progetto ma anche di contenuto e contenitore quindi il lavoro grosso che abbiamo fatto è da questo punto di vista e poi ci sono delle azioni anche collaterali a cui teniamo molto che servono ad arricchire l'esperienza, ad arricchire anche il ricordo degli spettatori che vengono e quindi da qualche anno, grazie alla collaborazione con la bottega Pascucci di Gambettola organizziamo, allestiamo delle mostre itineranti che girano con noi delle grandi telestampate che possono essere quelle della tradizione ma possono essere anche quelle degli autori contemporanei che la bottega stampa e organizziamo anche i laboratori didattici, dei laboratori creativi per i bambini per stimolarli anche in questo senso, sia alla musicalità perché costruiscono dei piccoli giocattoli con materiali di riciclo ma anche al saper fare qualcosa, imparare a fare qualcosa e soprattutto passano quell'oretto, oretto e mezzo di tempo in cui i genitori stanno guardati in concerto facendo qualcosa di utile, di divertente e quindi le famiglie vengono coinvolte interamente Il vostro puntualissimo ufficio stampa ci ha fornito delle bellissime immagini abbiamo visto molto suggestive, come location direi che c'è una bellissima varietà noi parlavamo settimana scorsa di quello che può offrire la spiaggia, il mare, la sabbia eravamo sulla battiglia insomma di Rimini con 3 km di costa eccetera direi che avete poco da invidiare anche essendo un contesto tremendamente diverso Esatto, il nostro entroterra è una virtù, è un valore ed è un bene che dobbiamo valorizzare da un punto di vista ma dobbiamo anche preservare, non può essere magari troppo frequentato, troppo battuto oppure ospitare degli eventi troppo invadenti dal nostro punto di vista e noi rimaniamo sempre nella via di mezzo fra la valorizzazione e la cultura anche fra il cercare di rispettare i luoghi dove arriviamo, come dico sempre anche con tutto lo staff dobbiamo lasciare questo posto meglio di come l'abbiamo trovato se possibile perché certe volte non è possibile Certo, Valeria abbiamo tantissimo da dire, ci prendiamo per un attimo di respiro perché andiamo a trovare degli amici che sono quelli di Piadina Loriana La tua voglia di Piadina ha il gusto di Loriana a pranzo, all'aperitivo, a cena Con Loriana la Piadina è un piacere dal gusto sempre nuovo Scopri le sfiziose ricette sul sito www.piadinaloriana.it E allora a Borgo Sonoro continuiamo a esplorare le location ma soprattutto le varie iniziative che ci sta appunto spiegando, illustrando il direttore artistico Valeria Mordenti che è qui assieme a noi Proviamo a entrare un pochino nel dettaglio del programma Hai portato insomma un po' tutto il calendario diciamo così Allora innanzitutto esatto vorrei citare i comuni che fanno parte di questo progetto Certo perché noi li abbiamo nominati Da 15 anni ci tengono e investono anche direttamente e anche in energie Era un cofreddo come dicevo prima il comune Capofila E poi gli altri comuni storici sono il comune di Borghi, quello di Longiano, Montiano, Mercato Saraceno Savignano sul Rubicone e Sogliano al Rubicone Quindi andiamo dalla via Emilia fino alle colline molto 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 dell'entroterra Il nostro materiale fra l'altro è corredato anche da una mappa all'interno Lo facciamo vedere, lo metto in favore di camera Sì però mettilo dritto Dritto, non è dritto Ah sì, scusa Il dritto è con la riga storta Così Esatto All'interno di questo pieghevole che vi sto mostrando c'è una mappa, proprio una cartina geografica Nel quale è possibile visionare anche tutte le varie località che fanno parte di questo progetto Proprio per questo dicevamo che c'è anche molta promozione del territorio all'interno di Borgo Sonoro E anche per il fatto che comunque anche gli iatti della costa e quindi torniamo al discorso della spiaggia Iniziano ad aprile e maggio a chiederci i programmi che naturalmente non abbiamo ancora E siamo sempre appunto alla rincorsa per riuscire a portarli Perché anche i turisti iniziano, continuano a cercarli Tra l'altro la mappa, scusami Valeria, è molto pratica ma vogliamo spendere due parole sull'illustrazione che è stata scelta? Questo è un grande dono, un grande dono ormai da tanti anni perché dal 2015, quindi, dal 2005 scusate Ilario Fioravanti, che allora era ancora in vita, ha iniziato a concedere l'utilizzo di questa immagine Grazie anche a dei rapporti molto amichevoli, anche fraterni che c'erano con l'allora assessore alla cultura del comune di Roncofreddo Ogni anno ha rinnovato questo regalo di concederci l'utilizzo di una propria opera come icona di Borgo Sonoro Ormai, come potete vedere, all'interno ci sono anche tutte le immagini di tutte le opere che abbiamo utilizzato E la fila si sta allungando sempre di più, inizieremo a girare A fare un poster troppo Esatto, intorno E anche da quando Ilario comunque non c'è più, la famiglia naturalmente ha delle fioravanti La moglie ha continuato a sostenerci e anzi si è creato veramente un rapporto anche molto di amicizia E anche di collaborazione molto stretto Anche la conferenza stampa per esempio la facciamo da due anni nella Casa Museo, nella Casa del Lupupa a Sor Rivoli Che è un posto magico dove tutto risulta anche più bello insomma Quindi quest'anno abbiamo scelto il giocoliere, il giocoliere con fuoco Ed è un'opera molto bella che fino a pochi mesi fa è stata proprio dentro la Casa del Lupupa Ed è un'emozione ritrovarla come icona per quest'anno Fino al 24 agosto qualche appuntamento da segnalare, proprio da evidenziare con doppia passata di pennarello Secondo me questa è la domanda più difficile che stai facendo a Valeria Come fa? Come chiedere a un allenatore di calcio qual è il calciatore migliore? La risposta di solito è il gruppo, ecco tu non puoi rispondere il gruppo Non è il gruppo, però posso, andando per generi posso illustrarli molto brevemente Qualche consiglio magari Qualche consiglio, se si vuole ascoltare della musica swing ben fatta, ben suonata e ben cantata Sicuramente l'appuntamento di sabato 27 a San Romano di Mercato Saraceno con Amarcorda Un gruppo emiliano-romagnolo molto interessante Oppure andare direttamente al piccolissimo Serenata Carosone Che è il concerto che chiuderà il nostro programma con un gruppo che si chiama Anema Con dei musicisti di altissimo livello Musicisti classici che però si ritrovano a reinterpretare strumentalmente Carosone Se si vuole una serata più frizzante, anche dedicata ai bambini e anche divertente Con delle vocazioni cinematografica Si può andare a Longiano in Piazza Maltestiana Dove ci sarà una serata dedicata alle musiche e alle canzoni di Walt Disney Interpretate da Greta Marco Longo che è una cantante di musical Quindi anche con una presenza scenica e una capacità attoriale notevole Se si vuole andare sulla musica popolare sia da autore che tradizionale Abbiamo l'imbarazzo della scelta perché ospitiamo di nuovo i Morrigan's Wake Che sono un gruppo storico di musica tradizionale di aria celtica Ospitiamo per la prima volta un gruppo argentino Che è per la prima volta in Italia fra l'altro Sul folk sudamericano, sono un duo, a Sorrivoli il 6 agosto Il folk d'autore del progetto maestrale con Filippo Gambetta E poi possiamo avere proposte di musica jazz con Stefano Bedetti Quartet a Savignano Una proposta diversa che va un po' fra la classica, la musica leggera e anche il jazz Che sono il duo dei Guerzoncellos, sono due musicisti padre e figli Che fanno un excursus dal barocco al rock con due violoncelli Abbiamo anche l'immagine poi nell'articolo Esatto, l'immagine che sarà Che è bellissima, la foto nella pagina dedicata a Borgo Sonoro Proprio dentro ad Extra, nel Cartaceo Come si dice, insomma, ed è veramente un'altra immagine bella suggestiva Prima di fermarci ancora per qualche secondo, Laura Ti chiedo Valeria, il vostro pubblico All'inizio parlavi di chi, i fedelissimi che vi seguono ovunque Chi guarda la proposta, chi ovviamente al territorio, quindi al comune, eccetera Bene o male l'età invece, no? Perché avete comunque, come dire, una forbice piuttosto ampia Anche perché poi riuscite a coinvolgere, dicevamo, anche i bambini Esatto, il nostro intento è quello Cioè riuscire innanzitutto a far star bene sicuramente le famiglie Perché le famiglie hanno anche bisogno d'estate di vivere delle cose, delle proposte insieme Non sono tantissimi appuntamenti Però in quella serata magari i piccolini possono fare qualcosa E i grandi si rilassano un attimo E quindi direi che comunque a seconda delle proposte Abbiamo anche appunto delle situazioni in cui c'è un pubblico più giovane Diciamo sui 25-30 anni Non abbiamo la fascia magari adolescenziale, quello no Perché comunque siamo un progetto diverso Fino ad arrivare ai senior Lo zoccolo duro quasi sempre sono più i senior Che però sono fedeli e anche sono molto affezionati E nel corso degli anni abbiamo notato che sono cresciuti numericamente Ma non è quello che ci interessa Ma anche qualitativamente Che è un progetto che punta più sulla qualità Sì, perché comunque non abbiamo dei luoghi che possono ospitare migliaia di persone Non è quello che ci interessa Mi interessa che le persone stiano bene Si ricordino dei luoghi E ci interessa anche che gli abitanti dei borghi siano coinvolti E siano orgogliosi del fatto di ospitare il Borgo Sonoro Cosa che negli ultimi anni abbiamo verificato che è successo E poi non solo, Valeria Perché tra poco, prima andiamo da degli amici Ma ti chiederò perché non c'è solo musica Non c'è solo far star bene Ma c'è anche un bellissimo progetto legato a delle borse di studio Ne parliamo fra un attimo Perché prima vi vogliamo ricordare che 23, 24, 25 agosto a Villa Torlonia Quindi siamo a San Mauro Pascoli Ritornano le feste medievali C'era una volta la Torre di Giovedia C'era una volta la Torre di Giovedia E allora altre immagini davvero suggestive Che avevamo tra l'altro ritrovato anche lo scorso anno Quindi di Villa Torlonia Insomma le feste medievali Parleremo ovviamente anche di quello nei prossimi numeri Tornando invece a Borgo Sonoro Ci eravamo lasciati a questa iniziativa Con il discorso di questi bandi per Borsi di Studio Tra l'altro per musicisti del territorio, giusto? Sì Approfondiamo Esatto È una cosa a cui pensiamo da tempo Sempre per la filosofia di collegarci e radicarci sul territorio Abbiamo deciso di investire qualche risorsa Quello che potevamo per quest'anno Ma credo che andranno aumentando nei prossimi anni Per stimolare come stimolo ai giovani musicisti Che in questo caso per quest'anno studiano musica classica Giovani quindi fino ai 18 anni Al compiimento del 18esimo anno Molto giovani Esatto Quindi anche piccoli musicisti di 6-7 anni Magari che ha iniziato E soprattutto che risiedono in uno dei sette comuni Che fanno parte del territorio Naturalmente non siamo ancora una realtà grande Però credo che sia una proposta che qualifica in qualche modo il progetto E fa vedere che Borgo Sonoro comunque ha una ricaduta sul territorio E anche su quello che è l'oggetto del nostro presentarci Cioè la musica E quindi abbiamo deciso Perché non fare questa proposta? Creare delle borse di studio Probabilmente dall'anno prossimo Da quest'anno Verranno creati proprio anche dei fondi Grazie alle offerte magari dei partecipanti e degli spettatori E come dicevo appunto sono riservate a musicisti che risiedono su questo territorio Perché abbiamo pensato anche che non è così facile magari per un ragazzino Una ragazzina che studia e abita in un comune come Roncofreddo Come Guborghi, come Sogliano Frequentare lezioni, frequentare il conservatorio E' più semplice farlo abitando a Cesena Abitando a Rimini Abitando a Forlino E quindi riservare a loro questa borsa di studio Ci è sembrato un po' un dovere Come il dovere che si ha nei confronti di un contadino Che continua a coltivare il proprio campo nel proprio territorio E quindi preserva il proprio lavoro La tradizione e anche l'ambiente che sta intorno Insomma un po' come un custode E ci è sembrato un bel segno Il bando scade fra l'altro il 15 d'agosto Ci tengo a sottolinearlo E l'assegnazione sarà il 24 di agosto Nell'occasione dell'ultima data E il bando è scaricabile dal sito del Borgo Sonoro Che è facilmente reperibile Noi spesso chiediamo quando vengono qui insomma E venite a presentarci iniziative Non solo Anche il lavoro dietro le quinte Perché ovviamente tu Valeria sei il direttore artistico Ma immagino ci sia comunque uno staff Che ti supporta E con il quale puoi organizzare tantissime date Quasi un mese Anzi praticamente un mese esatto Insomma di eventi 13 appuntamenti Quindi una bella regia alle spalle Ecco in quanti lavorati E soprattutto che lavoro Che tipo di lavoro è Cioè per apparecchiare la tavola Immagino serve parecchio tempo È un lavoro molto lungo È un lavoro molto lungo Perché c'è una Ci sono tanti aspetti Il coordinamento con i comuni Perché sono sette entità diverse Che vanno raccordate Calendarizzate E coordinate E con le quali si costruiscono Anche si cerca di capire Quali sono le esigenze I luoghi da Da far Da far emergere E da invadere Fra virgolette Con il borgo E poi c'è tutta la parte Burocratica e amministrativa Che anche quella È molto molto corposa E le richieste Anzi anche quest'anno Abbiamo avuto Il contributo Il sostegno Della regione Emilia Romagna Tramite il bando Della legge 37 Per noi Che siamo piccolini È una Una bella soddisfazione Comunque perché è una cosa Che si è riconfermata Nell'arco degli ultimi due o tre anni E quindi Fra alle settori Lo staff Organizzativo E lo staff tecnico Quindi fonici E tutto il resto L'ufficio stampa E altri collaboratori Part time O spot Secondo me Siamo oltre le 15 persone Una bella squadra Sì Alcuni iniziano a lavorare Febbraio Marzo Con tutta la parte Amministrativa Burocratica E anche Il mio lavoro Appunto Di scelta Della programmazione E si finisce Che ormai Il cammino è acceso Insomma E si è quasi E poi Valede Il tuo lavoro Ma è un doppio lavoro Cioè non solo Per quello che riguarda La programmazione musicale Ok Come qualsiasi Forse direttore artistico Ma anche per i luoghi Mi pare di capire Cioè Anzi Andranno di pari passo Perché poi A luogo Magari può corrispondere Una determinata sonorità Diciamo Comunque È questo Il lavoro difficile Appunto È questo È difficile È molto bello Perché poi quando C'è la magia Che si incastrano C'è la corrispondenza Fra contenuto E contenitore È tutto molto bello Però è faticoso Se io avessi Un Forse solamente Un luogo In cui hai Lo stesso allestimento Lo stesso staff Lo stesso balco Magari una bella arena Con già le sue casse montate Esatto E le luci Li fisse Invece C'è l'esclusività Diciamo così Dell'evento Forse anche questa No? Sì Quindi È una carovana Come diciamo sempre È una carovana Che si sposta Un giorno sì Un giorno no Allestisce uno spettacolo Come gli artisti di strada Di una volta Probabilmente Che andavano in giro Fare spettacoli Come un sarto Devi insomma Cucire l'abito giusto Non è facile Ogni tanto Ci si riesce di più Ogni tanto Ci si riesce di meno Però Bisogna Assolutamente sì Bene Siamo in chiusura Di questa Prima puntata Il terzo ultimo weekend Di Extra Estate Poi domani Andremo a sfogliare Nel dettaglio Anche con un altro Ospito Ovviamente Torneremo a parlare Di gastronomia Perché insomma Musica e territorio Ma anche Mangiare Noi dobbiamo mangiare Mangiare o bere Almeno una volta A settimana In ogni weekend Tra bere e mangiare Ovviamente Non ci facciamo mancare nulla Anche grazie ovviamente Alle proposte Dei colleghi Del Corriere Romagna Abbiamo tantissime Le solite rubriche Ma insomma Le vedremo poi Con calma Tutti insieme Grazie davvero In bocca al lupo Valeria Mordenti Grazie a voi Viva il lupo E direttore artistico Di Borgo Sonoro Che vi terrà compagnia Cara Laura Fino al 24 agosto Quindi per un mese Quindi c'è un sacco di tempo L'abbiamo già ricordato C'è un sito Dove potete comunque Vedere nel dettaglio Tutti gli appuntamenti Che tra l'altro Sono comunque Tutti riportati anche Assolutamente sì I sette comuni C'è tutto C'è tutto quanto Ci rivediamo domani Caro Luca Berto Assolutamente sì Grazie Laura Davvero A domani E grazie ovviamente A voi che ci seguite Buona giornata Extra estate È stata offerta da Grazie a tutti